I fatti non dimostrano che c'è stato un movimento per cacciare Salvini, Salvini si è cacciato da solo, a un certo punto è andato da Conte e poi è andato da Di Maio e ha detto che non intendeva più continuare, salvo pentirsi perché poi a un certo punto in Parlamento, in Senato, Salvini disse a Di Maio beh però se vuoi fai tu il premier e allora andiamo avanti, insomma mi è sembrato un pasticcio, dopodiché Salvini sicuramente ha dei motivi ma che non ce li ha riferiti.